Ciao a tutti e ciao a tutte. Io sono Lamberti Martina, ho 23 anni e sono un'ex studentessa dell'Istituto Superiore Grandis di Cuneo. Ho studiato il corso sociosanitario e mi sono diplomata ormai quasi 5 anni fa. Dopo il diploma ho deciso di proseguire i miei studi iscrivendomi al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria di Savigliano. Cito l'università non per altro ma per sottolineare come per me siano state fondamentali le basi gettate dall'Istituto Grandis per il mio proseguo degli studi. Infatti per fare un esempio potrei dire che molte delle materie che mi sono trovata ad affrontare in questi anni all'università sono materie che in un qualche modo io avevo già affrontato anche alle superiori. Altro grandissimo punto di forza dell'Istituto Grandis a parer mio sono stati gli stage. Grazie a loro ho avuto l'opportunità di svolgere alcune ore all'interno di un baby parking e altre ore all'interno di una cascina didattica che offriva servizio di scuola materna. Inoltre dopo pochi mesi la cascina didattica mi chiamò per assumermi. Infatti ho svolto circa un anno e mezzo di lavoro al suo interno. Dopo di esso ho lavorato all'interno di un baby parking per ritrovarmi ora a lavorare all'interno di una casa di riposo. Quindi tutti i lavori sicuramente in linea con gli studi affrontati all'Istituto Grandis. Quindi ora qualcuno mi chiedesse se rifarei la stessa scelta riguardo alla scuola superiore la mia risposta sarebbe sicuramente sì. E voi? Buona scelta! Grazie! 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 Grazie!